Ciao a tutti ragazzi Sì Intanto passi continuamente perché tanto ce l'hai per forza Puoi passare solo se la metti in cascata E ho anche questa Puoi Puoi passare solo se la metti a tuono Ok Arcobaleno Puoi passare solo se la metti a arcobaleno Che bella Serve senza motivo valido Vai expert Puoi passare solo se la metti a anima Oh è proprio lei Benissimo passa pure No mi sono fermato nella spiaggia Pure io Puoi passare solo se la metti a palude Oh è proprio la metti a palude Benissimo passa pure Allora stai guardi Oh qua possiamo fare il nuovo incontro Sì però c'è mi sa che Fammi provare Oh mi è uscito Ma anche Mi è uscito sensu Cioè Ormai Vabbè tanto ormai ragazzi La scuola di quella Speriamo che non voglia nessuno Nella mia vittoria Oh un portasfiga eh Io ora Ah qua mi sa che c'è uno strumento nascosto Dove c'è quella roccia abbandonata Ricordi Ah ho preso Onyx come encounter alla cosa Vuoi passare solo se la medaglia terra Oh è proprio la medaglia terra Ok sono davanti all'entrata Dimmi quando sei entrato Sono già entrato Eh infatti perché Onyx Eh un Marowak Non mi dispiacere Però si deve Allora Tigniamo subito le pelle Io qua ragazzi Non mi ricordo niente Quindi Mi ricordo che c'erano dei massi da spostare In delle pedane E infatti è così Ce l'ho vero forza Vediamo chi ce l'ha Ah si ce l'ha il mio Snorlax Ragazzi ovviamente Prima della Lega Pokémon Faremo Molto allenamento E in più Faremo i moveset Quelli definitivi Quelli veramente che sono No Che stupido Che è successo Ho dato la Master Ball Ma si Chi se ne frega Ovviamente era l'ultimo encounter Sti cavoli Infatti Oddio le stupido Io invece i ragazzi Sono uno di repellenti A Google Come se non ci fossero domani Ma Lo chiamo No allenatrice Si però Cominciate già a essere odiosi allenatori Parte la prima sfida Naomi Fanta allenatrice 5 Pokémon No 42 Faccio i miei complimenti Comunque boss Non so se hai già affrontato Il primo allenatore Ancora no Che c'ha 5 Pokémon Ma speriamo che riesci a saltarlo Perché questo qua è veramente lungo Ponita Ponita Rocciotomba Ma che hai usato forza Scusa Si ho usato forza Per la pedana Che c'è a destra Che mi ricordo Che c'erano quelle pedane Da cliccare Eppure io l'ho cliccata Però Ci devi mettere il masso sopra Questo ancora me lo ricordo Perché era La cosa da fare Vulpix Contro Vulpix Ma si continuiamo di scimmia Proprio a go go A cattiveria pura Breccia Si credo proprio che finirò I pipì di breccia In questa stavia vittoria Ma fa lo stesso Dopo scimmia Ce ne abbiamo Altri Altri ancora Comunque la mia voce Si sente vero Si si Perché io invece Sto registrando Il video E mi risulta Che è senza voce No io lo sento Sì infatti Tanto nell'editing Il mio video È comunque muto Quindi ragazzi Per voi Non cambierà niente Tanto piccione Vuoi shotta tutto Si E io devo dire Che vuoi shotta un rapidash No Quelli tu stai rapidash Nine tails Nine tails Siete odiosi Dov'è tipo acqua Ok eccolo qua Express Però Express Rischiai E con altri tipi fuoco Si Perché essendo anche ghiaccio Oh c'è idropompa Eh la rischiamo No no Stor di raggio Stor di raggio Ma chi è Express Non ho capito Express è sempre LAPRAS Ah se LAPRAS Mi sono diventino Ok Express al 51 Buto meglio su Naomi Sei stata un po' odiosa Mi la do anche pochi soldi Ah poi ragazzi Ci sta l'MT Questo qua è da fare due volte Se vogliamo ottenere entrambe No mi pare che una è una caramella Lara E l'altra è tra cartigli Che faccio Esco per prenderle tutte e due Non ho capito Che cosa Vedi i massi sopra La fanta allenatrice Li vedi I massi sopra La fanta allenatrice Si Sopra Si davanti Sopra Ah là Si ho capito Per prendere solo una cosa Io ho preso solo tra cartigli Mi sa che l'altra è una caramella rata Prendi solo quella a nord Secondo allenatore Che ovviamente non sono riuscito a schivare Solo quella a nord Si secondo me si Perché l'altra mi pare fosse una caramella rara Mentre l'altra tra cartigli Però non vorrei rischiare Perché forse l'altra è un'altra MT Si ho preso tra cartigli Se vuoi Se vuoi uscire e rientrare Puoi prendere anche la caramella rara Charizard Stoler C'è Charizard Che colorarmi sempre forte Proviamo Thunder Proviamolo subito Thunder contro Charizard Charizard Vabbè ce ne sono i 42 Però Fulmine Proveremo Con il KO E vamos Thunder Ha superato la prova ragazzi Può essere un nostro membro E ora muore guarda Muore brutto Charmillion Contro Charmillion È un continuo di Thunder Tanto Thunder c'ha molta difesa speciale Contrario di quella fisica Quindi speriamo ci vada Dalle sue mosse fuoco Comunque dovrei one shotarlo Infatti Brutto colpo Pure Grazie Mimiem dall'alto Che hai fatto questo brutto colpo Ancora Tanto Mimiem è morto Sta all'inferno No 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 Ah Stai a quello là Che sta vicino alle scale quindi Si C'ha tutti gli starter Allora c'ha Ibisaur Ma inizia Ma inizia diversamente Inizia Da me ha iniziato Con Mi puoi dire che Perché non hai iniziato Con Charity A me ha iniziato A me ha iniziato Con 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 Raticate E anche a me Anche a me ovviamente Ora mi ha messo Lo starter d'acqua Quindi Thunder Cioè ce li ha tutti Ragazzuoli Warthortle L'ultimo Fulmine Dalla musichetta Vedo che l'hai già battuto Uffa Solo io sono così lento Ho avuto la meglio Sul Rolando Si l'altra è una caramella rara Comunque Ah vabbè Io allora non la prendo Tanto è uguale Ah qua c'è un'altra pedana Da attivare Come la si attiva Questa Devo stare attento A non sbagliare Si perché devi fare Un percorso strano Stavo per cascarci Ok Ha attivata questa pedana Che dovrebbe sbloccare qualcosa Eccolo qua No Un altro karateka La mia vittoria In la prova finale Stiamo allo stesso punto Stiamo Meglio di così Se muore Ma ciò che ho Che Chi si ricorda questa situazione Avrà un biscotto Ma ciò che ho Che si Come ci mandiamo Quando ci arriva Sarà già a muffire Tutto quanto Eh vabbè Però pur sempre Un biscotto Chi è morto Brutto colpo Ragazzuoli E' ammazzato E' morto Madonna Ce l'hanno con me Questo gioco Chi è morto E' morto Scimmia E' morto Però Scimmia Non me la prendo tanto E' morto Scimmia era scarso Sì Seriamente Ha subito un vendetta Con noianze Quattro morti Io non sono tipo Da Nazlock Io sono uno Che rischia molto Infatti Scimmia Stava a metà vita Però Vabbè Non me la prendo tanto Perché Perché scarso Era Come statistiche Mi ricordo che era Più basso Delle altre Anche tu Tu l'hai battuto Quindi questo Per te Si l'ho battuto Ecco Aspetta Io sto indietro Sto al suo matchup Eh vabbè Lo cambierò Tanto per cambiare Gioco di parole Tanto per cambiare Ho trovato vampata Però Però un tipolotta Mi fa troppo comodo Quindi mi sa che Entra Raidmonlee Eh però Quando abbiamo finito la cosa Vabbè certo Adesso Che faccio Eh No però ragazzi Ce l'hanno con me Questo gioco è un maledetto Un'ora per trovare Un pokemon Per sostituire Dragonite Cioè ma proprio Grazie a tutti Che mi avete sempre Aiutato Consigliato Dicendo sei bravo Bella squadra Si si Infatti T'hanno aiuto tantissimo Guarda Allora Ora Mi ci parte La No Pure tu che corri Non ti devo affrontare Stavamo allo stesso punto Sono tornato indietro Persian Mi sa che come primo C'ho Mario E forse è meglio Se lo levo Mario non è una sicurezza Il rapidante funziona Perché ho ospitato Persian Porco due Tu non so se hai già affrontato Quello con Persian Ne lo so Anche perché ce l'hanno Un po' tutti Persian Mario Ti levo subito da primo Perché tu sei l'ultima Delle mie sicurezze Però contro Goldak Ti lascio Anche se sarebbe Molto meglio Thunder Io sto contro uno Che ha iniziato con Kingler Maia Confusione su Mario Per fortuna lui è difensivo E non gli fa poco niente Io poi ti dico Io ora sto con uno Che c'ha Goldak Goldak mi mancava Nel Bokeh Dex Quindi perfetto Io sto rischiando un po' Eh io ho già rischiato Ok niente Siamo stati tranquilli Ovviamente Sfuriate Dovina quanti colpi mi fa Uno Che uno Cinque Che strano no Porco due Iperpozione Ma chi usa un'iperpozione Cioè Guarda ragazzi Non si scherza Questi allenatori Come primo Allora io ci vado di Blaze Proprio cattivo Proprio la cattive A&B Ecco Blastoise Contro No però ragazzi Scimmia era stato Il nostro secondo membro Colui che Vabbè dai Mi dispiace solo Un po' a livello emotivo Per il resto A livello emotivo E dai Cioè Scimmia Dall'inizio stava Eh Maronna ragazzi Adesso mi sto già perdendo Sto spostando massi a caso Senza un apparente motivo Pure io Ah porco due Dove vado Esfoleremo un po' i rintorni Grazie a Dio C'ho i repellenti Max Non ho ancora fatto il primo incontro Io Ho trovato Vampata Esti Grand Canyon Hai già presa Vampata Sì E allora va a fambagno Figa Che l'MT50 Che stava là Sì Che poi L'MT50 Qui è l'ultima MT esistente Allora Perché poi ce ne stanno 50 Se non erro Ovviamente ho sbagliato a fare il masso Ma Chi se ne frega Finito l'effetto del repellente Allora io provo a passare dove c'è quella fantalenatrice Credo che tu sia passato proprio di là Eh sì Sai dove c'è quel piccolo gradino E poi c'è la fantalenatrice Eh Eh si è passato da lato Sì Ok allora ci passano chi Eh però è bloccata infatti Quindi devo tornare giù E spostare il masso bene Ah ok Si è rispawnato bene Quindi devo passare di qua Speriamo di azzeccarla stavolta Perché giuro che altrimenti Mi ci lancio una di quelle luride best Punte oh Ha usato punte Attenzione Competitive Non devo sbagliare con sti massi Non sapevo che punti abbassassi l'attacco Io non so niente quindi Il mio scimmia è morto No ragazzi ditemi che sto sognando È morto scimmia Ah io che dovevo avevi detto Era morto un altro pokemon Era scarso come statistica Però era scimmia Eh era scimmia Potete dirmi tutto sul mio pokemon Ma non su scimmia Scimmia fa schifo Cosa? Ecco perché è morto Ok allora dove Cristo è sta uscita? Questo è competitivo eh Finito l'effetto del repellente Boh io ho buttato un masso da un precipizio E tu per caso l'hai già fatto? Sì E poi cosa devi fare dopo quello? Eh io sto combattendo uno che stava vicino a una pokeball Ah ci ho buttato da lì Ok perfetto direi Ah poi questo masso lo uso per andare nelle scale? Ma quante ne so? No io sto andato a combattere uno che stava vicino a una pokeball Sì ho capito Ho capito che intendi Comunque ho capito come sbloccare un po' la mia vittoria Cioè ragazzi sto diventando un pro Sto dire Aspetta però Gesù No è giusto Dritto per dritto devo fare Mi volevo ingannare un po' sto gioco con le scale Vero che hai sbloccato la porta che piace a me? Sì perfetto Oh Me la sto cavando eh Però lotta in doppio ragazzi Lotta in doppio Ah sì quella che sta tra le due squale Nido Queen e Nido King Aia il 45 Blades può fare qualcosa contro Sì che può fare Lancia fiamme fa male a tutti Eh Mario mi dispiace ma ti devo switchare In Cacchio Ti metto contro Nido King Non lo so Snorlax Sì dai Io tanto oramai sono abituato a rischiare Oddio Cosmo Forza Ti prego no Porco di Ah Megacorno 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 è vero che quella con le ottero Mi intorno un attimo ho pensato a per Forco Sì E poi andiamo di corpo scontro su Nido Queen Dannati allenatori di merda Comunque li metterò sdoppiatore a Snorlax Ok perché qua ci sta gli insegnamosi di sdoppiatore mi ricordo all'uscita Boh paralizzato Snorlax grazie mille a Nido Queen Ricarica totale o puro stall Sì ma è pura rottura di palle Quindi tu questa cosa in doppia l'hai già fatta No Ok allora Blades meno male che non ha preso neanche un danno Snorlax invece ha preso botte come se non ci fosse un domani Però per fortuna he's a physical defensor Ora devo buttare questo masso per terra E poi mi ci devo buttare vero? Di solito si fa così Non lo so guarda Eh no non posso da qua buttarlo No no è una cosa che avevo già fatto Allora si scende Oh sono uscito Bella madonna Sono uscito ragazzuoli Non ci credo ancora Percorso 23 Ah comunque la facevo più difficile sta via vittoria Alto piano blu Sì comunque Salvatore quando fai quella lotta in doppio Non ci sono già fatta Nido Queen e Nido King Vai dritto dove c'è le scale in cui scendi Ed è fatta Eh io sto un attimo a combattere un po' di allenatori Sì comunque non è niente di che Ragazzi però io ne ho perso un altro Sto ridendo e scherzando in questa parte Ma che balle Cioè no ma siete veramente cattivi Siete scimmia no però Cosa? Mi è morto scimmia Vabbè che ora risulta di nuovo full vita Perché è Stony Vox Però mi pare proprio che fosse morto È morto? Però non so se sostituirlo con un tipo lotto Con qualcos'altro Perché Itmon Lee c'ha veramente delle basse difese Quindi è sempre anche lui rischioso Perché c'ha difesa 39 Quindi potete immaginare Sì Però essendo veloce Veloce è un parolone Perché qua c'ha 50 di velocità Però è vero che sta a livello 25 Sì Poi avendo mosse come calcio rulo Calcio salto breccia Perché non so se mi serve un tipo lotta Ragazzi analizzerò i super 4 Di come si chiama questa regione Di Kanto E vedrò Perché sinceramente Perché lotta mi servirebbe solo contro quell'Onyx Vedo che sei uscito dalla mia vittoria Sì sta un attimo a cercare sto puzzle De risolvere Ah Però comunque i reprendi max mi sono bastati Pura a me Comunque ragazzi Direi fino a qui l'episodio Comunque ragazzi Aspetta un attimo Compro qualcosina Comunque ragazzi Comunque ragazzi Comunque ragazzi è tutto Ciao al suo video Bella ragazzi Peace Ciao ragazzi